Sono stati tutti identificati i ragazzi che hanno partecipato alla Rissa nell'autostazione di Castelfranco. Si tratta di sette giovani delle province di Treviso e Padova, frequentanti istituti scolastici del luogo tra i 15 e i 16 anni. I carabinieri li hanno denunciati all'autorità giudiziaria minorile per reati che vanno dalle percosse alle lesioni agli atti persecutori. Le immagini della violenta lite erano finiti sui social, riprese fatte con i cellulari da numerosi ragazzi che hanno assistito alla scena. Video che sono arrivati anche nelle mani dei militari dell'arma. Sono stati proprio gli studenti presenti all'accaduto che con senso civico si sono presentati spontaneamente dai carabinieri per riferire circostanze ed elementi utili alle indagini. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, tre dei partecipanti minorenni si sarebbero resi responsabili di atti di bullismo protratti nel tempo ai danni di un coetaneo culminati con l'aggressione di giovedì scorso con schiaffi e pugni. Nel frangente uno dei tre bulli, unitamente ad altri quattro giovanissimi, avrebbero poi ulteriormente aggredito un secondo minore intervenuto in difesa del primo. Quest'ultimo per la gravità delle lesioni ricevute è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Rimangono impresse le immagini della lite con calce e pugni e la violenza con la quale questi studenti si sono affrontati. Nonostante l'aggredito fosse a terra continuavano a colpirlo sulla testa e sulla schiena. Minori senza nessuna remora, senza nessuna regola. Ora rischiano di risponderne davanti ad un giudice.